Buongiorno a tutti, ben ritrovati su questa Envy News, devo dire che visti i numeri che si stanno accumulando soprattutto in provincia di Brescia e di Bergamo su questo virus, mi indurrebbero a fare altre riflessioni, ma voglio continuare appunto fedele all'Envy News, anche perché è una modalità, è un modo di parlare delle cose che continuano a circondarci e che tutto sommato ci fanno anche sperare per un domani più sereno e migliore. Oggi voglio parlarvi di un libro, un libro che si intitola Scuola di rifiuti zero di Filomena Compagno, Filomena Compagno è un insegnante di francese attivista rifiuti zero, di Terracina dove c'è un gruppo molto attivo di rifiuti zero con altri due cari amici, ma in realtà tanti nel mondo dei rifiuti zero, ma due cari amici che sono Raffaele Mauro e la moglie Marina Mobilio, anche loro insegnanti, questo ci dovrebbe dire che ci sono una classe di insegnanti molto molto impegnata e positiva in Italia, che probabilmente anche in questo momento sta cercando di fare sforzi importanti. Ma questo libro è molto interessante perché nasce dall'esperienza vissuta dal di dentro di come una scuola e il rapporto con gli studenti possa insegnare ed educare verso un cammino. Allora io ho avuto la fortuna di fare la prefazione di questo libro che trovate in libreria della Inuendo Edizioni di Terracina stessa. Mi dicono che la prima tiratura è esaurita ma è in ristampa, quindi per chi lo volesse lo può fare cercando online o presso l'autrice le copie. Dicevo, io stesso ho avuto la fortuna di curare la presentazione e nell'ambito della presentazione ho sottolineato tre elementi che si ritrovano nel libro a cui sono molto affezionato e che partono proprio dal titolo. A scuola, la prima è la scuola, perché la scuola deve continuare ad essere anche fisicamente il luogo in cui non solo si passano delle informazioni e quindi solo un luogo cognitivo, ma anche un luogo di apprendimento attraverso l'esperienza e quindi di educazione. Il secondo concetto è proprio legato al tema dell'educazione e addirittura la parola educazione. Anche qui ho avuto la fortuna nell'ormai lontano 95, 96, 97 di collaborare a quella che era allora la Rete Nazionale di Educazione Ambientale. E il verbo educare, cioè accompagnare, mi piace molto perché è intimo rispetto al tema rifiuti zero, ovvero riuscire a darsi un obiettivo anche molto apparentemente molto lontano, anche utopico, con l'intenzione, come ho scritto e come in realtà ha scritto il grande Edoardo Galeano, con l'obiettivo di muoverci, di camminare, di andare verso quell'obiettivo. Quindi non è tanto e solo importante l'obiettivo in sé, ma quanto i passi che si fanno gradualmente per raggiungere l'obiettivo stesso. E l'educazione è un po' così, ne parlo molto anche nel mio ultimo libro, evocando la figura di Mosè che al di là della sua storia reale o meno è molto forte l'effetto metaforico di quella figura e del cammino di un popolo che viene portato via dalla schiavitù verso una terra promessa. Ecco, è proprio la storia ben esemplificata di questo cammino verso un'utopia e chi ti guida non necessariamente arriva all'utopia, magari non ne vede nemmeno i risultati, ma ha questa forza trascinante straordinaria che è proprio quella dell'educare. Quindi tornare a scuola da un lato mentalmente, anche per noi adulti, a cercare l'educazione, a farci accompagnare e accompagnare quando siamo nelle condizioni di poterlo fare. Rifiuti zero. Come ho detto, in questo senso deve essere un po' quella luce che sta all'orizzonte e che tra l'altro, vista in questo modo, non è divisiva, ma diventa un obiettivo comune. Certo, l'obiettivo comune non necessariamente ci porta a percorrere gli stessi cammini. L'importante è ogni tanto fermarsi e rinegoziare l'obiettivo e vedere che siamo tutti d'accordo. Banalmente di avere tra le mani oggetti che durino di più, che siano riparabili, che siano smontabili e che, se proprio poi a un certo punto arrivano a fine vita, che siano completamente riciclabili e possono dunque entrare, secondo il modello di economia circolare, con una nuova vita, in una nuova industria che li può processare. Ripeto, se siamo d'accordo su questo obiettivo comune, poi le strade ogni tanto si incrociano, poi divergono, poi si reincrociano, anche stando nel conflitto ed essendo capace a gestire, governare il conflitto, ma avendo un obiettivo comune, una luce comune in fondo. Allora in questo senso credo sia importante che un concetto come quello di rifiuti zero non sia divisivo, che non faccia le tifoserie pro e contro, ma diventi un obiettivo reale e comune. In questo libro lo si scopre, lo si scopre partendo dalla quotidianità di un insegnante che vive la scuola, con i propri studenti, con le proprie attività che si possono fare all'interno della scuola. Quindi in questo periodo che siamo a casa, ordiniamo il libro di Filomena Compagno Scuola di Rifiuti Zero e perché no ci facciamo una bella lettura così ci prepariamo per il rientro per chi è insegnante scolastico, per chi non è insegnante, però magari ha dei figli e rientra in scuola in qualche modo. Vi ringrazio, vi do appuntamento domani. Ciao!